Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità ha definito il calendario dei lavori di riqualificazione del deposito tramviario di Porta Maggiore. Per fare spazio all'intervento è prevista una modifica al servizio tramviario, in particolare in una prima fase dal 1 luglio e sino al 4 di agosto le linee 2 e 8 verranno sostituite integralmente da bus. La linea 3, come accade già adesso, viaggerà su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia e la 19 tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Servizio regolare su rotaia per le linee 5